Papi di nasce, Signore, Spiritore, Vieni Spiritore, Spiritore. Vieni in me, il cuore non c'è, vieni in me, le voce non c'è, vieni in me, le voce non c'è, vieni in me, le voce non c'è, vieni in me. Vieni Spiritore, vieni in me, le voce non c'è, vieni in me, le voce non c'è, vieni in me. Vieni Spiritore, cari fratelli e sorelle, questa è stata messa con quale concludiamo il nostro ritiro, e noi, in questi tre giorni insieme, il titolo del ritiro era non abbiate volta. C'è veramente siamo nei tempi, doveviene ansia qualche paura, qualche cosa, tale sterno. Ma noi dobbiamo essere sicuri che avendo Gesù nel cuore, sparisce qualunque ansia del cuore. Questa Santa Messa sto celebrando insieme con Domenico per intenzioni che abbiamo nel nostro cuore. Ricordiamoci sempre anche per intenzioni della Chiesa, del Santo Padre Francesco, Papa Benedetto XVI. Ricordiamoci tutti i sacerdoti, ma oggi con quella gioia, con i nuovi santi. Prima di tutto, ricordiamoci i nostri peccati e chiediamo anche per noi. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Gloria a Dio ben alto del cielo e pace in terra e con ogni buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua propria indenza. Signore pietà, Signore Dio come c'è, nome pietà, Signore mio, i diploma di Dio, figlio di Padre, Tu che toglie i peccati del mondo, apri trecati. Ci prenda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sono enti dal tuo governo, a te l'aiuto. Non ci stanchiamo mai di operare il prego, è il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e viveregne a contendere l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pregai, e mi fu elargita la prudenza, implorai, e venne in me lo Spirito di sapienza. Saziaci, Signore, con il tuo amore, giocheremo per sempre. Saziaci, Signore, con il tuo amore, giocheremo per sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni, e avvisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbia un vietà dei tuoi serbi. Saziaci, Signore, con il tuo amore, giocheremo per sempre. La parola di Dio è viva, efficace, e più talente di ogni spalla ad ogni un'area. Canta alleluia al Signore, canta alleluia al Signore, canta alleluia al Signore. Canta alleluia al Signore, canta alleluia al Signore, canta alleluia al Signore. Canta alleluia al Signore, canta alleluia al Signore, canta alleluia al Signore. Signore sia con voi, aneluia al Signore, canta alleluia al Signore. Dalleluia al Signore. Dalleluia al Signore, canta alleluia al Signore. una sparisca ma quando tu hai in mano l'osario non ti preoccupare che ti spezzerai il demone perché ti rimane Maria con quello puoi sempre dire Ave Maria prendendo quel grano dal tempo per dire Ave Maria questo è il messaggio che volevo lasciarvi a fine di questo ritiro non abbiate fatto finché avete la fede finché avete l'amore finché avete la voglia di camminare con Gesù di girare girare il torno come fosse quelli due discepoli quando stavano andando verso l'Evalus all'inizio non si sono accorti che Gesù era vicino a me ma poi quando avvino visto si sono accorti che sta camminando un uomo ma non hanno riconosciuto che era Gesù ma Gesù li ha riconosciuto anche se tu non lo riconosci anche se tu hai perso la fede anche se tu sei lontanato da lui lui ti riconosca sempre perché sei suo e ti viene sempre al fianco basta dire semmo resta qui con me perché senza di te io non posso farlo niente amén amén preghiamo per il santo padre capato a un gesto per il pedente sedicesimo per i sacerdoti per la modificazione del sacerdotato preghiamo per le nuove vocazioni della vita consacrata diciamo insieme ascolta insieme ascolta insieme ascolta insieme ascolta insieme e il sacerdotato esprime il pensiero del cuore di Cristo che si tratta di attraverso tutta la Chiesa tratta del concilio e quindi di questa expresione molto importante di la vita che la Chiesa ante i nostri sorori in un mondo in cui la vita e i suoi cammino spirituale con il suo progresso e quindi noi non amate la Chiesa e a lui si può anche sostenere tutto tutta parte del popolo ma del popolo cristiano troppo e quindi in un'idea di un perdito di un perdito di un perdito della Chiesa preghiamo a questo parte e anche noi preghiamo che stessi ascoltaci al Signore grazie a sapere per quelli che ci hanno chiesto anche specialmente anche per i malattie e quelli che fossero ricevuto la notizia brutta della malattia che possono devono adottare diversi momenti della pura difficile preghiamo per loro e diciamo ascoltaci che ci ha anche si non che ci ha la notizia della ma che ci ha volentieri questa domenica faccia in particolare una imprecia in viva Grazie a tutti. 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 Tu sei qui... Tu sei qui... Tu sei qui... Tu sei... 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 Tu... Tu sei... 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 barattami da quando è stato eletto Papa, poi te il Papa San Giovanni Paolo II 16 ottobre 1968 e poi il martedì alle 9 di sera se voi si ricordate accenderemo i giorni a casa insieme con i familiari e diciamo Ave Maria la madre nostra grazie che ci hai donato San Giovanni Paolo grazie che ci hai donato San Paolo VI e tutto quello insieme tra i santi c'è un amore vero e non c'è gelosia perché lo impariamo di questo e poi devo partire subito in Francia a Perugio perché sono anche di là a casa di preghiera di San Giovanni e vi chiedo la preghiera e io preghierò ma ringrazio il Signore che ci dona questa forza preghiera di Chiro qui a Tresparma mese novembre e può darsi che ci concordiamo anche qualche incontro prima di Natale qualche preghiera insieme anche per un pomeriggio ma andiamo a casa con una gioia nessuno ti può portare via questa gioia se tu non hai niente se tu non hai niente che la pace non muore certamente potete essere arriccati perché il male subito a tanti quando vede che hai trovato il fonte della morte della pace ma voi siete forti avete fatto l'adorazione eucaristica tutta la notte due notti veramente mi è capitato prima volta che un ritiro due notti adora con Gesù siete un gruppo meraviglioso io questo è un messaggio per tanti adorare Gesù allora questo ringrazio poi il mio ringraziamento dopo il Signore anche il parolo ex parolo di Gesù Don Mario che da pochi giorni in pensione ma vedete non è in pensione perché venuto qui saponò c'è siamo siamo stati bene grazie compadre per i suoi venuti ringrazio tutti voi ciascuno ma sono felice che sono nate come casa di bichiera e veramente pregato pregato per portare questo messaggio e quanto alla fine vi do la benedizione con quella croce missionaria del missionario mi sempre suona mentre la parola il patriarca del Libano e nel Toreen e la Rai quando tre settimane fa in Libano mi metteva quella croce e diceva questa croce è il missionario dell'Europa allora mi sono tenuti questo pensiero bello perché passo dal paese all'altro paese per che cosa? per dire che Gesù ti ama e ama come anno intenso e che non abbiamo allora così concludiamo con la perfezione voglio dire che questo incontro è stato venuto da Sassana lo dico perché era un po' di tempo che cercavo sacerdote per l'Oventino e non sapevo chi portare e chi lo scommetano su che tanti ma a un certo momento una signora mi telefona e mi disse prova a vedere se riesce a incontrare padre e altri che si le risponde in telefono mi provava una volta due o tre e una volta mi ha risposto e ho chiesto se chi si poteva fare il tiro ha detto devo guardare il telefono la giornata prossima ho provato una o due o tre volte finché la terza ha risposto ci siamo all'armi appuntamento per telefono e abbiamo chissato e con quella data siamo arrivati a Ossini pensavo di fare un tiro ma una o due un tiro grande come questo io conoscevo San Sardello ancora anche fu quando ne parlavo con la televisione che diceva è il più grande santo in questo tempo per i miracoli anche perché è malunita io ho partecipato delle messe malunite in Africa è una messa malunita due ore due ore e mezza è una messa viva è una messa che ti danno sacerdote e sacerdote 50 benedizioni non ne ho contate tutte ma tante 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 e ho pensato anche per questo di attivare a casa la San Sardello chissà che faccia un po' evocazioni che in Italia da noi sono serroti che pregono con la messa a parte come così con calma con tanto amore e versione devo dire grazie veramente a padre anche perché è stato grande non è stato è grande scuso spiato parlare è grande è il Signore che lo aiuta la preghiera dà la forza al padre io gli siano detto al padre padre sono stanco voglio fermarmi gli anni passano per tutti e tutto fermarsi guarda lo sei tu e il Signore che fermo tu devi andare avanti e adesso mi fermo grazie 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 a tutti grazie che celle o tale internet se vana su YouTube da sto che scrive Harbell TV si scrive CH Harbell TV su YouTube vedete 4% Se uno va sul sito, mio italiano-polacco, anche lo ce l'ho detto a tutti ieri, basta scrivere www.adriale.pn www.adriale.pn Va bene? E potete anche sapere dove c'è per la prossima volta, quando sarò in Francia, in vicino Coppa di San Giovanni Paolo, e tutto è lì, perché sempre quando guardate il filmato c'è un po' polacco e poi subito io trovo quello italiano, perché non si può capire. C'è anche un traduttore, cercate sulla pagina che ci traduce in italiano il testo. Allora così saremo in unione sempre insieme e ci vedremo. Adesso ricevete la benedizione, perché veramente siamo arrivati alla messa da noi in tante ore. Grazie a tutti. 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 Rivolga a esplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amén. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amén. E la benedizione di Dio impotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, vi senta su di voi e con voi rimanda sempre. Amén. La messa è finita, diamo in pace. E diamo grazie a Dio. Dio ha mandato il suo figlio Gesù, per che avessimo la vita per lui. E Dio che per primo ha scelto noi, suo figlio si offerto per noi. Dio è amore, Dio è amore. Dio ha, Dio ha, Dio è amore. Dio ha, 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 Dio ha